Il primo tempo così così, poi nel secondo tempo la squadra si è andata una punta degli altri Mi sei entrato in scogliatore, ho dato due svella poi alcune No, non sei scherzo No, beh, nel primo tempo un po' se fossero entrati troppo convinti di stare tranquilli Invece no, a volere siamo messi a giocare a calcio e si è visto un po' Nel secondo tempo siamo entrati con un'altra mentalità Stavamo messo un po' a giocare a calcio, abbiamo messo magari in difficoltà pure noi Come ci fa pensare è che di solito non ho sbagliato fino adesso Però sai, ero un po' nervoso, stavo un po' male, però ammetto che non sbaglio Ma non si sapeva vedere che devo attirarlo? Com'è andato? No, mi son girato e visto e ha detto di piazza, di piazza Stavo abbattendo l'uso, per me ero qua, non mi piace Comunque una prestazione che senti tanto? Io? Ma discreto, non sto bene forse fisicamente ancora Soprattutto sto indietro dei ragazzi, non sto a livello dei ragazzi Sto saltato tutto il ritiro e mi sto riprendendo da poco Però per due partite due gol ti candidi adesso seriamente per un posto titolare? Eh spero, poi decido il misto, non sono io e decido Spero che convinca il misto Grazie 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 Grazie